festa con amici in vista stai organizzando una merenda con bambini affamati o un aperitivo in terrazza un'idea originale e divertente è quella di organizzare un hamburger party con uno strumento veloce pratico e semplice da utilizzare la macchina per hamburger hamburger maker della linea party time di ariete hamburger maker è il modo più semplice per preparare a casa succulenti hamburger da offrire ai tuoi ospiti oppure da gustare ogni volta che vuoi soddisfare la tua voglia di hamburger particolarità di hamburger maker sono le due piastre antiaderenti sovrapposte che ti consentono di grigliare contemporaneamente due hamburger e scaldare due panini in questo modo in meno di 5 minuti puoi creare i tuoi hamburger con tutti gli ingredienti preferiti con hamburger maker party time non prepari solo hamburger ma anche toast e panini caldi farciti per arricchire la tavola di stuzzichini e soddisfare i gusti di tutti in modo semplice e veloce e non temere per la pulizia delle piastre elettriche perché essendo antiaderenti si puliscono rapidamente così il tuo hamburger maker è sempre pronto all'uso hamburger maker party time di ariete la piastra che soddisfa la tua voglia di hamburger e non solo